Benvenuti a tutti! Oggi stiamo entrando in una nuova era di governo intelligente! Governo! 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 Abbiamo alcune nuove norme e regolamenti che vi faranno goggolare, Professor Frink. Bene, prima di tutto banderemo a sport barbari come la corrida e il combattimento dei galli. Anche la boxe sia quella con i piedi che quella con le mani. E lo che il football, le flessioni e qualunque cosa imbarazzante in cui bisogna toglierci la camicia. Non ricordo di averne discusso. Prendendo ispirazione dalla razza più logica della galassia, i vulcaniani, permetteremo la procreazione una volta sola ogni sette anni. Non significherà un minor numero di accoppiamenti, per me un numero maggiore. Alle mie pecole non piacerà! Porca patata, non ci sto! Signore e signori, mi devo scusare, quest'uomo non parla, nome degli alfa. Noi abbiamo un'altissima considerazione di voi sotto specie. E quando parliamo del mio succo di broccolo? Non interrompere, prego. Il tuo quoziente di intelligenza è solo un misero 155. Io ho 170. Sono molto più intelligente. E beh... Pote fare tutti quello che dico io. Il mio quoziente è 199 per din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din. Grazie. Grazie.